La città di Firenze ha nel proprio DNA il saper attrarre turisti da ogni parte del mondo grazie ad un impareggiabile patrimonio ereditato dalla storia e alla capacità degli operatori di creare un'offerta allettante. Adesso però è arrivato il momento di saper gestire i flussi turistici e se possibile distribuirli nei 12 mesi dell'anno così da creare condizioni più idonee per un turismo di qualità. Abbiamo semplicemente oggi provato a dare un elemento concreto a una strategia cioè cercare di localizzare e destagionalizzare i nostri flussi turistici tema noto che ci invade e ci pervade nelle nostre menti da diverso tempo specialmente nella città di Firenze. Abbiamo lanciato un bando che è a fondo perduto per chi ha idee e per chi porterà turisti da novembre a febbraio o fuori dal nostro centro storico e con 150.000 euro di finanziamento a fondo perduto. Quindi è aperto da oggi e questo è figlio della nostra strategia di andare appunto a dominarlo il turismo e non essere dominati. Vero è che non sono niente 150.000 euro rispetto a una dimensione cittadina come la nostra ma chiediamo attraverso questo bando un messaggio a tutti gli stakeholder di fare altrettanto come con noi per poter indirizzare tutte le risorse e le forze affinché si vada veramente a destagionalizzare tutto insieme e a delocalizzare tutto insieme. Penso che se si mette tutto insieme e decuplicando questi 150.000 euro si inderzerà i flussi turistici, almeno è una delle varie medicine. L'obiettivo è ambizioso ma quello del Comitato per il Turismo della Camera di Commercio potrebbe essere un buon inizio.